Presento, sono Sara Boschi, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze e la Vita dell'Università del Suri di Siena e dal momento che la mia tesi di dottorato è comunque inerente a un grande progetto su popoliglia japonica e che è una peste in agricoltura, vorrei parlarvi meglio e in modo più approfondito di questo argomento e di questo insetto. Popoliglia japonica, come già detto, è un insetto, è un insetto appartenente alla famiglia delle scarabeidi, che è parte dell'ordine del coleoctrico e un'ordine di 335.000 specie. Popoliglia japonica, come ricorda il nome japonica, è originaria endemica del Giappone. Le caratteristiche fisiche di popoliglia japonica sono una lunghezza di circa 8-11 mm e una larghezza di circa 5-7 mm. A livello cromatico, invece, popoliglia japonica presenta un corpo e un addome color verde metallico, mentre le elitre, che non ricoprono totalmente il corpo, hanno una colorazione più tendente al bronzo rame. Una delle caratteristiche più caratterizzanti, diciamo così, di questa specie è la presenza di queste bande di peli, che sono 5 al lato di ogni addome, 5 al lato dell'addome e vengono formati a sete, e 2 a livello dell'ultimo segmento addominale. Queste, diciamo, sono le caratteristiche fisiche di popoliglia japonica per riconoscerla. L'imorfismo sessuale in popoliglia japonica non è molto pronunciato, una delle differenze minime è a livello di dimensioni, in quanto le femmine hanno dimensioni leggermente superiore rispetto ai maschi. Inoltre, le femmine sono anche più longeve rispetto ai maschi nel momento adulto, diciamo così. I maschi, inoltre, presentano una posizione del secondo paio di zampe distese nel momento in cui sono al riposo, mentre presentano sempre lo sperone tibiale più appuntito rispetto alle femmine. L'attrazione sessuale in popoliglia japonica è molto forte, in quanto le femmine producono feromoni di aggregazione che arrivano fino a 10 km, e i maschi da fino a 10 km riescono a sentirli e, diciamo così, riuscire a individuare la posizione della femmina e raggiungerla. I 10 km sono una distanza molto grande per un insetto così piccolo. E i maschi, una volta che si aggregano con le femmine, creando dei veri e propri assembramenti, per il periodo in cui stiamo parlando, che si chiamano palli. Questi assembramenti non vengono creati soltanto dai feromoni femminili, ma anche da alcune essenze rilasciate dalla parete vegetale nel momento in cui viene lacerata dal morso dello scarabèo. La ciclo vitale è poi japonica. Per parlarvi ne vorrei incominciare a parlarvi della deposizione delle uova. La femmina scava circa 10 cm in un terreno mormido e umido e depone da una a tre uova. Dopodiché ritorna in superficie a nutrirsi e a riprodursi di nuovo e torna, diciamo così a riprodurre le uova fino a circa 16 volte ogni stagione, producendo circa 40-60 uova. La fase di risvegliamento urvennale è sotto forma di larva. La larva si riattiva verso, a livello metabolico, verso primavera e in questo momento, diciamo così, si attiva e fa molti danni anch'essa all'agricoltura, in quanto va a nutrirsi degli apparati radicali delle specie erbacee, distruggendone completamente e quindi, diciamo così, portando alla morte della pianta. Dopodiché la larva si impupa e passa tutto il mese di maggio sotto forma di pupa, pupa che poi sfarfalla nel mese di giugno sotto forma di adulto. L'adulto anch'esso fa gravi danni all'agricoltura perché si nutre di più di 200 specie vegetali di cui molte di interesse vivaistico, mangiando sia i fiori che le foglie di molte piante sia ornamentali ma anche piante da frutto e riesce a mangiare l'intera foglia lasciando solo la nervatura centrale. Perché la pupiglia japonica fa così tanti danni? Innanzitutto vediamo che in Giappone la pupiglia japonica non fa così tanti danni come nei posti in cui, diciamo così, è stata importata a causa dell'uomo. Quindi è proprio questo meccanismo di importazione che la porta a fare danni perché fa danni solo dove è all'octona. Ma ricordiamoci un po' qual è la differenza tra specie all'octona e specie autoctona. Specie autoctona da autos, medesimo, ecton, terra, è una specie che ha avuto origine nel medesimo luogo in cui si trova. Mentre una specie all'octona da allos, diverso, ecton, terra, è una specie che è stata importata per azione dell'uomo in un'area diversa rispetto a quella in cui si è originata. Ma quando è che una specie autoctona viene classificata in aliena invasiva? Viene classificata in aliena invasiva come pupiglia japonica quando si espande da dove è stata introdotta, molto periodicamente rispetto ai tempi naturali, creando impatti tangibili su altre specie e con ecosistemi. Dov'è che è invasiva pupiglia japonica? Puglia japonica è invasiva in Nord America, all'Azzorre ed in Italia. In Nord America è stata avvissata la prima volta nel New Jersey nel 1916, dove è venuta a contatto in un'area dove, grazie all'assenza di predatori e prosti naturali e abbondanti suoli agricoli adatti per la deposizione delle uova, è venuta ad espandersi molto rapidamente, creando ingenti danni a livello economico per tutta l'agricoltura americana. All'Azzorre invece il primo avvistamento è stato effettuato in una base americana nel 1970, ma grazie al terreno vulcanico dell'isola, diciamo così, la voriposizione è rallentata e quindi l'espansione della specie è controllata da questo punto di vista. Qui in Italia invece il primo avvistamento è stato effettuato nel parco del Ticino nel 2014, su entrambe le sponde del fiume Ticino, sia dalla parte lombarda che dalla parte piemontese. Grazie a strumenti di cattura e le trappole è stato visto l'aumento della popolazione di adulti catturati, un aumento che negli ultimi 4 anni, cioè dal 2014 al 2017, ha avuto un andamento molto elevato, ma non solo, anche a livello di area, di area che è passata da un'area di 80 km quadrati nel 2014 a più di 800 nel 2017, arrivando ancora a colonizzare e invadere anche il Ticino svizzero. Per questo è nato il progetto Integrated Pest Management of the Japanese Beetle, grazie alla quale si spera di poter arginare il problema di piquia japonica e studiandola in primo luogo. Grazie mille! Grazie mille!